buongiorno a tutti cari amici buon anno e benvenuti alla puntata di oggi di 58 secondes review la mia rubrica quotidiana in cui come sapete vi parlo degli album che più mi hanno colpito oggi ho scelto per voi un disco che si chiama coach a falling star di alice ricciardi e pietro lusso questo duo formato da voce e pianoforte sembra apparentemente un classico duo pianoforte voce invece i nostri due amici riescono a creare un album particolarmente interessante molto bello molto ben arrangiato e benissimo eseguito un disco che come si può capire mi è piaciuto moltissimo sia per la scelta dei brani che spaziano dei classici jazz come what is this thing called all fino ad arrivare a good vibrations e ci sono anche quattro brani originali sia per gli arrangiamenti e per l'esecuzione mi piace soprattutto quando l'uso suona i rods come in boys and girls like you and me che ha una nota blues particolarmente divertente insomma un album ben riuscito ben eseguito ben suonato che vi consiglio di ascoltare ciao e a domani